Musica Intanto vi sfido arriviamo subito a 4000 like per un nuovo episodio della carriera allenatore con la Juventus che mi sta piacendo da impazzire E seguitemi sui social network che trovate qui sotto in descrizione, su tutti i link dovete cliccarci Siamo tornati, manca pochissimo la chiusura del mercato e rifiuto l'offerta per piazza che voglio ottenere D'altronde ci ha regato la finale di Champions l'anno scorso contro il Bayern Monaco quindi nel cuore proprio Abbiamo venduto a Zamoa e ho fatto qualche offerta off camera Una addirittura per il prestito di un giocatore che l'anno scorso al Sassuolo è stato veramente molto importante Aveva il 10 del capitano, si chiama Mimbo Berardi Offerta per trasferimento per Lich Steiner, diciamo che voglio qualcosina di più dai Anche perché Stefano è nel mio cuore, è uno dei giocatori che è dal primo anno di Conte che è qui e quindi no dai, almeno 5 milioni Ok ovviamente non possono cedere in prestito Mimbo Berardi perché ovviamente partirebbe il prossimo anno Però 30 milioni di euro me lo date? Ronaldo per 10 milioni e Higuain Avrebbero accettato questa offerta ragazzi Il Real Madrid Vediamo Ronaldo cosa dice Perché se riesco a prendere Cristiano Ronaldo sono davvero contento Certo è in fase calante ma noi serve solamente per una stagione Per vincere qualcosa che lui ha già vinto tante volte L'ultima contro di me 67 milioni per Berardi non credo proprio Attenzione perché Cristiano Ronaldo ha appena accettato l'offerta E io la confermo Abbiamo appena comprato Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo tipo 2 minuti di video Aspetta che età, aspetta Arrivo, arrivo Ma abbiamo preso CR7 Incredibile La prima volta nelle carriere che posso finalmente utilizzare questo fenomeno Cristiano Ronaldo, Aubameyang e Dybala Questo è il nostro tridente Ovviamente credo che Quadrado sarà contento di cedergli il numero 7 Siamo veramente agli sgoccioli della chiusura del mercato La prima partita di CR7 sarà contro l'Inter Un caro saluto a Stefano che lascia la Juventus dopo anni e anni di una erata carriera 10 ore al termine del mercato Vediamo se riusciamo a fare qualche altro colpo Intanto rifiuto l'offerta per Keita Provo a fare una pazzia Ci avanzano ancora 50 milioni di euro da spendere E mi piacerebbe prendere Rugani Ah cavolo non posso Cioè posso solo inviargli un'altra offerta di questo tipo Non posso chiedergli un prestito Un anno di prestito e riscatto a 30 milioni per Marcus Raffa Sarebbe un graditissimo ritorno 10 ore al termine Dobbiamo assolutamente muoverci a comprare gli ultimi due giocatori E intanto Thiago Silva a 32 milioni l'avrebbero accettata Sto prendendo tantissimi giocatori di esperienze con nomi importanti Ma perché servono questi per vincere in un anno solo? Ma datemi una risposta per Rugani Perché non mi fate sapere più nulla? Thiago Silva verrebbe di corsa alla Juve E io non posso fare altro che accettarlo Ci rimangano 17 milioni di euro Mi dispiace Barzagli vai in tribuna Thiago Silva probabilmente... No, non posso togliere Giorgio Fai la riserva Thiago, mi dispiace Thiago Silva, Thiago Alcantra Le abbiamo tutti noi Per il momento quasi quasi rimango così E mi ritengo per il mercato invernale Concludiamo qua il nostro mercato Tanto direi che per questo episodio abbiamo già fatto tantissimo Abbiamo comprato Ronaldo Dite voi E andiamo a affrontare la seconda partita di campionato Contro l'Inter Ovviamente ancora una volta i titolari Perché sono super in forma Ronaldo è già calato di uno di overall Ma non importa Deve essere straripante comunque Certo che ci sto pensando Ma abbiamo fatto veramente un mercato Allucinantemente bello Juventus Stadium Juventus Inter Prima è il derby di Torino Poi il derby d'Italia Questa carriera inizia sicuramente così Eccolo qua CR7 Vicino Obama Young e Dybala Questo è il tridente delle meraviglie Con cui bisogna puntare fortemente alla Champions League Si affrontano due squadre importanti L'unica ad aver fatto il triplete in Italia È quella che vuole farlo quest'anno Dybala Ronaldo tocca adesso il suo primo pallone Maglia bianconera Ronaldo si appoggia Subito che sia Dybala Sbaglia la prima palla Aubameyang la recupera E serve Dybala Attenzione si può girare Va sul mancio Dybala CR7 Recupera un gran pallone Proprio lì Ancora Ronaldo Vuole andare via con i numeri E si impapira col pallone Sono stupido Banega dalla bandierina La mette dentro Raja va a saltare C'è fuori Andreoli Addirittura sta giocando Andreoli sul serio E la passa con Jesus col 4 Cosa sta succedendo? Banega sull'esterno Entrato in aria Ancora Banega Il tanghito la mette La palla è lì Donna Rumba Bellissima azione dell'Inter Adesso dobbiamo fare qualcosa anche noi Perché abbiamo Cristiano Ronaldo E non sta facendo la differenza Per il momento Aubameyang Dentro per Dybala Attenzione c'è CR7 Che si può staccare Tagliando dietro Il secondo difensore Mamma mia che opportunità Sarò sincero Questa squadra è fortissima sulla carta Ma devo ancora un attimo capire I giocatori Le loro caratteristiche tecniche Per giocare al meglio Con il modulo Col trequartista Il mio preferito Dentro per Dybala Attenzione Può avanzare Ancora Paolo Sempre Paolo Dentro così la palla Thiago Alcantra La recupera E possiamo partire Attenzione Perché CR7 Prova a tagliare Dentro per Dybala Chiama l'1-2 La palla di ritorno Juan Jesus può coprire Ronaldo può spingere Valla sportellate E non ci credo Vince il 4 dell'Inter Nainggolan vede il taglio Ancora una volta Di Cristiano Ronaldo Che vuole girarsi Alla palla La può mettere con il tacco Che numero Vidal da fuori Il tiro Pianissimo Ah che bel taglio Perisic Mamma mia Nainggolan Cosa ha preso ancora Perisic Donnarumma E Giorgio che spazza Occasione d'oro per l'Inter Per andare in vantaggio Vidal dentro per Ronaldo Si appoggia a Thiago Adesso in questo momento Io vorrei sempre giocare Con tutti i giocatori nuovi Che abbiamo trovato E fargli dribblare tutti Ma perché la novità Vi giuro Adesso mi riprendo È il momento Di fare assolutamente Dei cambi Cambio anche il modulo Mi propongo Con un 4-3-3 offensivo Dentro Marchisio E Quadrado Ronaldo va a fare la punta E Shobamiang Entra anche piazza Beyerin Dentro così Per CR Che si appoggia con il tacco A Paolo Di Bala Facciamola girare Marchisio Vede il taglio di piazza Allora lo serve Piazza può avanzare E poi con il tacco Servire ad Alexandro Un cioccolatino fantastico Sandro la mette Per CR7 Il gol Subito Qua dove va La prima punta Nel tridente Ma cos'hanno fatto Piazza e Alexandro Su quella corsia di sinistra Fammelo così Fammelo così Le sultans di CR7 Il gol all'esordio Guardate che azione Che sovrapposizione Il cambio di motolo decisivo Sandro E Ronaldo Di prima Di Mancino Non possono farci niente Letale CR7 Al primo pallone Utile Per andare a segnare Trova il gol Dell'1-0 Nel derby d'Italia Il mister applaude Ma io sono esploso di gioia Grandissimo così 1-0 Cristiano Ronaldo Che alla Juve Non fa assolutamente panchina Attenzione perché Brozovic Prova ad accendere speranze Dell'Inter Ma Chiellini Ancora una volta provvidenziale Nel recuperare il pallone E poi serve Ronaldo Ronaldo è partito Attenzione Un 2 contro 2 Con Di Bala Ronaldo La Serbia Di Bala La prende Con l'ultimo punto Del piede Andreolli Condobbià Una delle ultime speranze Per l'Inter Prova ad andare Alexandro La deviano E attenzione Perché Donnarumma Fa un miracolo Il novantesimo ragazzi Bisogna tenere botta Dobbiamo assolutamente Cercare di difendere Ma se la giocano lì Per me va benissimo Ultima possibilità dell'Inter Nangolan vuole rubargliela Attenzione perché Li stiamo pressando Nella loro metà campo Riescono a uscirne Attenzione Juan Jesus Da centro avanti La butta dentro così Giorgio Chiellini La palla è ancora lì Ancora Giorgio Cos'è fuori gioco È fuori gioco Allora Gigio Tu spassala in alto Più in alto possibile Buttala là Gigio Che è praticamente finita E finisce qua 1-0 Il gol L'ha segnato Il nuovo fenomeno Il nuovo fuoriclasse Appena arrivato Allo Juventus Stadium Beh intanto Sono già contenti Perché abbiamo venduto 200 milioni di euro Dalle magliette Ma abbiamo comprato Dei certi giocatori E attenzione Guardate ragazzi Contro un che andiamo a giocare Proprio adesso È già la partita del cuore La partita della vita Giochiamo contro il campione di tutto Del Sassuolo Il mio cuore È fortemente riviso a metà I ragazzi sono riposati Nonostante la pausa nazionale E quindi possono giocare Sarei curioso di vedere La formazione del Sassuolo Sono curioso di vedere Chi hanno comprato Quest'estate E tra l'altro Torno a casa Quindi Chissà il pubblico Come mi accoglierà Chissà se Sarò fischiato O sarò applaudito D'altronde Siamo campioni D'Italia ed Europa Grazie a me A Reggio Emilia Chi è quest'uomo Che è il capitano Chi è Chi è il capitano Del Sassuolo Oh Sono impazziti Balotelli È vero che avevo comprato Balotelli Me ne ero già Completamente scordato Ma chi è il numero 3 Eccola qua La formazione di titolari Ouedes Che gli abbiamo dato noi Per Donnarum È diventato il titolare Ed è il capitano Addirittura E non c'è Ma Ma che squadra strana Ma dov'è la mia squadra Dov'è Rugani Dov'è Berardi Dove sono i ragazzi Mi dispiace Non avrò pietà Devo assolutamente Cercare Di vincere E lo faccio subito Con CR7 Di Bala È partito Dentro così Per Cristiano Ronaldo Ancora CR Dove l'andare Cambiare tutto Per Beyerin Si appoggia Vidal Vidal dentro Da Paolo Di Bala Attenzione Perché c'è un buco Per Aubameyang Il Gallo Belotti Lanciato a rete Da Romagnoli Il Gallo Ma Gigio Non si fa sorprendere Attenzione ad Alexandro Che si appoggia Così con il tacco Proprio come il gol Contro l'Inter di Ronaldo Attenzione Ancora Ronaldo Si accentra Prova a tirare Ronaldo C'è Paolo In posizione regolare Prova a girarsi Paolo la mette Per Aubameyang Che non riesce a tirare Attenzione perché Nainggolan Può cercare Ronaldo O se no Dentro così Per Tiago Alcantra Che può aspettare Il taglio di Aubameyang Lo vede Lo serve Aubameyang Che il tiro Ha spaccato la traversa Ma il portiere La parata Dai ma siamo anche Sfigati allora E Meret L'ho preso io Nainggolan La recupera Dentro per Di Bala Aubameyang Ha avuto un'occasione Clamorosa Così come Ronaldo Che ci riprova Meret La toglie Aubameyang Attenzione C'è Di Bala Di Bala prova a ridargli Aubameyang praticamente da solo Questa volta non lo può sbagliare Più Mi sembra vedere Il Rashford Dei tempi peggiori Il Gallo Belotti Attenzione insiste Insieme a Berardi Che appena è entrato Mimmo 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 Mi fa terribilmente ridere Questa cosa Ridere e piangere Allo stesso tempo Berardi che segna Donnarum Berardi che segna La Juve Ma io questa volta Non posso esultare 1-0 Sassuolo E io sono triste I campioni in carica Festeggiano Il vantaggio Dobbiamo ripassare assolutamente Al modulo a 4 punte Che abbiamo usato Nel finale con l'Inter Anche perché Veramente Aubameyang Ha fatto una partita Bruttissima parte Con la traversa Attenzione Quadrado Che vuole andarsene sulla fascia Vuole sfidare Rugani E ce la fa Riesce a saltarlo Ancora Quadrado Che crea la superiorità Ronaldo va a prendere il cross Attende in mezzo E la palla Che è ancora qua La palla Che è ancora qua Arturo Vidal Il tiro di Vidal Da fuori Alta non vuole entrare oggi Ronaldo Ronaldo Ancora dentro per Vidal Attenzione Possiamo andare per vie centrali Ronaldo e Vidal Ronaldo e Vidal Vidal e Ronaldo Ancora CR 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 La palla che è qui C'è Paolo Il tiro di Paolo Di destro Esce Non entra Mai questo pallone Palla lunga Cercare Belotti Che porta sulla squadra Lunga e tiene la palla Ancora Belotti Lotta con Chiellini La palla che è ancora qua La prendono loro E poi Chiellini riesce in qualche modo A prendere il fallo Invece no Non ce lo fischiano Palla ancora al Sassuolo Ripartiamo con Quadrado Non ne abbiamo praticamente più È una delle ultime possibilità che abbiamo Quadrado Dentro così per Di Bala Cerchiamo l'1-2 De Sciglio Se lo perde E allora Quadrado può andare A cercare Ronaldo A prendere il cross Come contro l'Inter Ancora Quadrado La mette per CR7 La mette per CR7 Il gol di CR7 Segna sempre lui Al novantesimo Contro il Sassuolo Esplodo di gioia In questo episodio L'abbiamo comprato E ha già fatto due gol Con questo modulo Probabilmente Un segno del destino Un segnale Che mi stanno dando Luca abbandona i trequartisti Gioca con questo modulo Quattro punte Ah che bello Il pareggio in extremis Col Sassuolo Nei vincitori Nei vinti Finisce così È giusto così Due partite Due gol di Cristiano Ronaldo Io sono già felice Belotti si è fatto male Questo veramente Mi dispiace tanto Mi dispiace veramente un sacco Ancora Rugani Attenzione In buona posizione Rugani Donnarumma La toglie Berardi Cosa stava per fare Chi l'ha presa sulla linea Mamma mia Il Sassuolo si attacca Gli voglio proprio bene A questa squadra È fatta di Oddio 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 Cosa abbiamo rischiato Al novantesimo Sono invecchiato Di 58 anni Va benissimo così Guarda Va proprio bene così Sono contento Perché Ronaldo Ci toglie sempre Le castagne dal fuoco Abbiamo fatto un gran acquisto Sta andando da dio Ronaldo è stanchissimo Dopo queste partite Perché la vecchiaia Inizia a farci sentire Ma è ora di cambiare modulo Diciamo che così Riusciamo a esprimere Il meglio Dei nostri due fenomeni Qui davanti Di bala Ronaldo Che attacco E ancora una volta ragazzi Siamo arrivati Alla fine dell'episodio Ma veramente mi sto divertendo Come un bambino La prossima siamo già in Champions Contro Wolfsburg Come al solito Vi chiedo di lasciare 4000 like Se volete subito Un altro episodio Di questa carriera Incredibilmente bella E noi ci vediamo Al prossimo episodio Iscrivetevi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi